Colonnello, è arrivato il momento di salutare la città di Siena. Lei ha vissuto anche un periodo molto particolare legato all'emergenza coronavirus. Qual è il saluto che vuole fare all'ospedale e a tutti i professionisti sanitari? Saluto, ma soprattutto vorrei esternare davvero la mia riconoscenza. La mia riconoscenza e gratitudine a tutto il personale sanitario del Policlinico Le Scotte. E' un'eccellenza che ha Siena, un'eccellenza non solo in quella che è la professionalità, ma soprattutto in quella che è l'umana vicinanza ai pazienti e soprattutto il senso di accoglienza che è davvero elevato. Cosa le ha insegnato questa esperienza legata anche all'emergenza coronavirus? Ha insegnato che le cose semplici sono molto importanti. Il coronavirus ha ridotto quella che è la nostra socialità, ha un po' soppresso alcuni nostri modi di essere, il nostro comportamento. E ci ha fatto un po' capire qual è l'importanza veramente dei valori. Ma questi sono valori, sono concetti che la città di Siena aveva già perché comunque il senese è custode di un patrimonio di valori fatto di tradizioni antiche che si basano appunto sulla vicinanza, sulla cooperazione sociale, sulla solidarietà. E questi valori sono usciti fuori proprio in questo periodo per aiutare le persone in difficoltà. Dottor Giovannini, un rapporto istituzionale importante è quello tra ospedale e arma dei carabinieri. Qual è il suo saluto nei confronti del colonnello? Un saluto che insieme ai sentimenti della gratitudine per ciò che hanno rappresentato, in particolar modo il comandante ha rappresentato per tutti noi in questi anni, per il nostro ospedale, dicevo un attimo fa che è stata una presenza così forte che a volte neppure abbiamo sentito. E questa è la forza davvero di una grande istituzione, di una capacità di essere nella società, di essere accanto ai momenti importanti della vita in una società come quella di un ospedale, senza in qualche prevaricare, ma con una sobrietà, con eleganza, ma con quell'attenzione che mai è mancata ai nostri riguardi. Ci siamo sentiti protetti. E questo è il ringraziamento più importante che possiamo, protetti ogni giorno nella nostra attività. Una sempre prima, dicevo, abbiamo capito che potevamo usare perché sapevamo di essere capiti che il nostro scopo era sempre e soltanto una sanità per gli altri, pubblica, di qualità, fatta sempre per i nostri cittadini. In questa città, davvero in questi anni, ha vissuto un momento straordinario, una congiuntura di quelle uniche che si vivono e si godono tutte. L'arcivesco, il questore, il nostro prefetto, il dottor Gradone. Sono tutti stati momenti così importanti che hanno fatto ritrovare a tutti noi il senso davvero di una partecipazione sentita, vera, devo dire anche con piacere alla vita della nostra società e della nostra comunità. E oggi quindi, rispetto a tutto questo, c'è un attimo, devo dire, di augurio importante. Quindi il cuore si apre a un sorriso augurale al comandante per il suo futuro, che è un futuro di crescita professionale, di grande soddisfazione professionale, meritato proprio per quello che ha fatto in questi anni e nella sua vita professionale. E dall'altra c'è evidentemente un sentimento così di, in qualche modo, di rammarico, per non volgersi indietro e sapere che c'è ancora lì con noi, ogni momento, pronto a darci un consiglio o un aiuto. Perché è questo che abbiamo vissuto in questi anni. Anche quando noi non chiedevamo, non ci volgevamo indietro, non sapevamo, sentivamo che c'erano lì accanto a noi, forti, sicuri. E questo ha reso tutto più facile, anche i risultati delle cure del nostro ospedale, la sensazione dei nostri professionisti. Tutto questo si deve evidentemente a questo straordinario equilibrio che avevamo raggiunto. Ci otteniamo tutto nel nostro cuore, ci auguriamo che prosegua evidentemente anche con il suo sostituto così, come è stato in questi anni. Noi saremo sempre noi stessi. Certamente ci mancherà anche quell'aspetto di amicizia, di simpatia e di legame che avevamo costruito giorno per giorno in questi anni. Grazie.